Per una serie di coincidenze al di là del mio controllo, in infanzia ho avuto il mio imprinting con l'animazione giapponese nel modo più violento e traumatizzante possibile. E non mi riferisco ai vari anime che passavano regolarmente in televisione, anch'essi visti e divorati in quantità negli anni successivi. Bensì mi riferisco all'errore di mia madre che noleggiandomi dei film animati Disney distrattamente infila nel mucchio anche Akira di Katsuhiro Otomo. Avevo cinque anni. Era il 1993, esattamente lo stesso anno in cui vidi per la prima volta Predator 2. Per me il 1993 è stato l'anno zero e per quanto piccolo ero diventato molto autonomo nella gestione del VHS del videoregistratore, quindi molte delle cose che mia madre mi portava a casa o le vedevo con lei o le vedevo da solo. Ecco, per una pura casualità, a cinque anni vidi Akira da solo con l'aspettativa di un film Disney. Quella visione, che per me fu completamente incomprensibile, fu uno shock così forte da portarmi a non vedere più il film per i successivi vent'anni, dopo i quali ho deciso di rivivere quel trauma e scoprire che ricordavo non alcune scene, tantissime scene per filo e per segno. E questo fu un secondo shock. Com'è possibile? Avevo cinque anni, l'ho visto una sola volta, eppure ogni cosa si replicava davanti a me, esattamente come la ricordavo. Immagini, interi scambi di battute, addirittura le inflessioni delle battute, ed erano passati vent'anni da una singola visione. Ok, i bambini sono spugne ed ogni cosa si fissa nella memoria come non farà mai più, invecchiando. Ma comunque mi sembrava troppo, mi sembrava incredibile. Non mi sarei stupito se si fosse trattato di un piccolo momento o due, ma prima che le battute venissero pronunciate, ero in grado di anticiparle. Non ci avevo mai più pensato da allora. Possibile che questi ricordi siano rimasti in un cassetto, fermi, immobili, mai rievocati fino al momento della seconda visione, e fossero rimasti così nitidi, così vicini nei dettagli dopo vent'anni. Questo è stato il mio imprinting con gli anime giapponesi. Prima di Kenny il guerriero, prima di Tiger Man, prima di Mazinga Z, prima degli avventurieri della galassia, prima di Nadia, prima di tutto, per me c'è stato Akira. Da allora ho vissuto il mondo dell'animazione giapponese con estremo interesse, al contrario della controparte cartacea dei manga, che invece ho sempre percepito come una cultura troppo distante da me. Sono sempre stato incostante con i fumetti, in generale, orientali o occidentali che fossero. Ma tranne rarissime eccezioni, la lettura di manga non è mai entrata nelle mie abitudini fino ai 22-23 anni, fino a che non mi sono imbattuto in Berserk. Conosco il nome di Berserk da molto prima di imbattermici, ma tardi rispetto all'anime è andato in onda negli anni 90. Tutt'oggi non ho visto quella serie. Ebbi l'opportunità di dare uno sguardo al manga solo anni più avanti grazie al Bala, che aveva in libreria i primi due volumi maxi, che mi prestò e che lessi con voracità per poi scoprire che non aveva completato la collezione, costringendomi a fermarmi senza la possibilità di acquistarla, visto che i primi fumetti della serie nera all'epoca erano quasi introvabili nella loro interezza. Ci rinunciai. Questo fino a quando non è uscito l'adattamento cinematografico sotto forma di una trilogia che copre l'arco narrativo della Golden Age. E da qui, una volta che la serie nera è stata ristampata, ho finalmente recuperato Berserk su carta, godendomelo per l'opera eccezionale che è, con pregi e difetti. E da qui nasce questo video, perché io non ho la minima intenzione di parlare del manga adesso. Io voglio parlare dei film. È possibile percepire il capolavoro che un titolo rappresenta in un medium tramite un adattamento che invece capolavoro non lo è? È possibile innamorarsi di quel mondo, di quelle dinamiche, di quell'immaginario e di quei personaggi, senza averli prima vissuti nella loro massima forma espressiva? Sì, lo è. Perché quando la materia originale è così potente, un adattamento può anche non esserne all'altezza, può anche essere riduttivo, ma non perde il potere di comunicare il suo messaggio. Perché il messaggio di Berserk squarcia la carne e l'anima, mettendola completamente a nudo. Non è neanche questione della qualità di ogni singolo film. Non c'è un film nella trilogia di Berserk che sia un capolavoro nel senso più stretto del termine. Anche il migliore dei tre non è un vero e proprio capolavoro. Ma la materia di partenza è talmente, intrinsecamente potente da farti capire comunque, senza la minima difficoltà, come e perché Berserk abbia conquistato il mondo. Esattamente come ha conquistato me. E da allora non mi ha mai più lasciato. E questa mia ossessione trascende la qualità dell'opera stessa. Sono talmente innamorato di questo mondo, di questi personaggi, di questo contesto, di queste atmosfere, che Berserk nel giro di pochissimo tempo è diventato nel manga e nell'anime il mio preferito su tutti. Grazie. 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 La trilogia è interamente diretta da Toshiyuki Kobuka, animatore esperto con all'attivo collaborazioni con giganti del settore come idea che hanno per il suo Gun Buster e che con la trilogia cinematografica di Berserk esordisce alla regia. Il primo film si intitola L'uovo del re dominatore, che rispetto al manga fa una scelta nell'introduzione della storia radicalmente diversa. Su carta, come prima cosa, assistiamo ad eventi che avverranno molto dopo rispetto alla trilogia, per poi fare un gigantesco salto all'indietro ed entrare gradualmente nell'arco narrativo della Golden Age, che sostanzialmente rispetto alla prima cosa che vediamo è un gigantesco flashback che va talmente a ritroso nel tempo da mostrarci la nascita del protagonista, cosa che nel film L'uovo del re dominatore non c'è. Facciamo la conoscenza di Gatsu, protagonista assoluto di Berserk, nel pieno di un assalto ad un feudo dove partecipa in veste di mercenario, l'unico stile di vita che abbia mai conosciuto. Almeno inizialmente Berserk è ambientato nella regione di Midland, dove i tumulti di guerra scatenati da pretese sul territorio da parte delle varie famiglie reali sconvolgono l'equilibrio della vita ed impediscono la pace. Ed in un contesto storico pseudo-medievale di guerra perpetua, Gatsu nasce e cresce formato nel sangue. I sentimenti non hanno nessuna importanza, le ambizioni non hanno nessuna importanza. Difatti Gatsu non ne ha. Vive alla giornata, facendo l'unica cosa che sa fare. Uccidere il prossimo e convivere con il dolore. Perché per quanto come combattente Gatsu abbia una reputazione incredibile tra i guerrieri di Midland, visto la sua precocità e la sua incredibile capacità di gestire una spada così grande da renderlo quasi sovrumano, in realtà Gatsu non è altro che un essere umano rotto all'interno, definitivamente compromesso. Ma che nonostante i suoi traumi, nonostante il suo dolore risponde alla vita e al destino a furia di colpi di spada. Durante l'assalto del feudo, Gatsu sfida ed abbatte il capo dei guerrieri avversari, decretando la vittoria per la sua parte ed attirando l'attenzione di Griffith. Sì, nel manga si chiama Griffith, ok, ok. Griffith. Fantomatico guerriero mercenario di giovanissima età, capo della squadra dei falchi, che alla prima occasione sfida Gatsu, lo sconfigge e lo costringe ad unirsi alla sua squadra. Ammaliato dal fascino infinito di Griffith, Gatsu inizia il suo percorso insieme alla squadra dei falchi, di cui diventa il comandante delle truppe d'assalto. E di qui tutto il resto della storia, che non voglio stare assolutamente qui a spoilerarvi analizzandola pezzo per pezzo, perché per come sono abituato a fare le cose io ci starei 6 milioni di anni e quindi non è proprio il caso, non ci penso nemmeno. Voglio solo fare un'analisi più possibile riassuntiva, ma che vada dritta al sodo. Anche se non ho ancora visto la serie tv degli anni 90, so per certo che moltissimi la preferiscono alla trilogia cinematografica, che sceglie di introdurre la tecnica mista 2D-3D in cel shading che in certi momenti aiuta, in certi altri molto meno. Se il senso di profondità e di tridimensionalità aumenta, la bellezza e la grazia di un disegno, di un movimento di camera riprodotto tramite il disegno cala, cala di parecchio e a seconda della fotografia della scena sembra di vedere veramente un videogame, senza contare le espressioni facciali quando ci sono i primi piani con i personaggi disegnati in cel shading digitale. E non mi fraintendete, non si tratta di qualcosa di inguardabile, semplicemente si nota una differenza enorme quando ci sono i primi piani di personaggi disegnati digitalmente e quando sono disegnati a mano. Che grazie a Dio sono di una bellezza folgorante, talmente tanto da compensare la goffaggine del digitale che a onor del vero di film in film migliora progressivamente. Arrivando nel terzo capitolo a dei picchi di bellezza che non fanno rimpiangere il disegno manuale. Dà proprio l'impressione che gli animatori abbiano fatto una sorta di scuola su questo progetto. Il primo film, soprattutto nella prima parte, quando non è disegnato a mano, risulta anche bruttino, devo dire. Purtroppo. Più che altro quando appaiono i personaggi umani. Se si tratta di catapulte che lanciano palle infuocate, torri che crollano, scene di massa, per quanto riguarda i dettagli di animazioni ambientali, tutto bellissimo, tutto a posto. Ma dal momento in cui si comincia a parlare di primi piani ed espressioni facciali in tecnica mista, eh, insomma, lo vedete con i vostri occhi. Sono marionette, bambole, non lo so, sembrano morti nello sguardo. Quindi capisco perfettamente quelli che preferiscono la serie tv degli anni 90, disegnata completamente a mano ed infinitamente più approfondita dei tre film. E che rispetto a molti anime simili che vedevo dal ragazzino, è invecchiata decisamente bene. Ma esattamente come successe per la serie tv di Kenny il guerriero, che non so se l'avete più rivista, ma è invecchiata malissimo, malissimo, si decise di rifare, in epoca più moderna, una trilogia cinematografica che ripercorresse l'arco narrativo della prima serie. Berserk si meritava ancora di più la sala cinematografica. C'era bisogno di una versione cinematografica di Berserk, che dalla sua alla strepitosa colonna sonora di Shiro Sagisu, leggendario compositore giapponese, che ha collaborato insieme ad Ideaki Anno sia per Evangelion sia per Shingozilla, che se avete visto ed ascoltato vi dovrebbero bastare ed avanzare, come biglietto da visita. E la colonna sonora di Berserk non fa assolutamente eccezione. Fin dal primo film l'accompagnamento musicale si rende protagonista rinforzando le immagini con una forza ed una perizia. Sconvolgenti. Sconvolgenti dall'inizio alla fine, ed increscendo. Le tracce alla fine del terzo film sono qualcosa di straordinario. Ed incredibilmente, per qualcuno sarò anche apocrifo adesso, ma non me ne frega un cazzo, per me è così, questo è uno dei rarissimi casi in cui posso consigliarvi di guardare il film doppiato in italiano. Rispetto alla serie degli anni 90, il doppiaggio della trilogia di Berserk è bellissimo. Bellissimo. Non c'è neanche un singolo personaggio, neanche tra quelli più secondari, che non sia perfetto. Occhio, sto parlando di doppiaggio adesso, non di adattamento. Su quello ci torniamo dopo. Un po' come per la trilogia del Signore degli Anelli, per quanto il mio preferito sia l'ultimo, il primo capitolo ha dalla sua il fascino della scoperta, l'inizio dell'esplorazione dell'avventura in terre sconosciute, la conoscenza dei protagonisti e la nascita e sviluppo dei legami tra loro. E qui, Berserk, manga o anime che sia, non può che brillare. In qualunque formato lo si approcci, la pletora di personaggi creati da Miura sprigiona un carisma ed un'umanità istantaneamente memorabili, tanto da rendere difficile persino dedicare sufficiente attenzione al mondo intorno a loro, anch'esso mostruosamente carico di dettagli e personalità. Kentaro Miura, nel 1989, inventa il dark fantasy, cinque anni prima che George Martin pubblicasse il primo libro delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco. Il mondo di Berserk, almeno inizialmente, non ha quasi niente della magia tolkeniana, dove il fantasy in un modo o nell'altro caratterizza ogni aspetto della Terra di Mezzo, che è pericoloso, oscuro, misterioso, ma anche ricco di innocenza e delicatezza. Midland, al contrario, è una terra di uomini che vivono e muoiono da tali, tanto presi dai loro interessi personali da ignorare o da aver in parte dimenticato l'esistenza della magia e del sovrannaturale, che per tutta la parte iniziale di questo arco narrativo fa capolino col contagocce nello stupore generale degli stessi protagonisti. Game of Thrones fa la stessa cosa. Parlando solo della serie tv, nella prima stagione i suoi unici momenti fantasy si riducono all'introduzione della prima puntata ed il finale dell'ultima, crescendo però progressivamente con l'evolversi delle stagioni e diventando sempre più predominante ma senza mai prendere il sopravvento assoluto. E chiariamoci, non voglio stare assolutamente qui ad accusare Martin di plagio. Con tutti i suoi problemi ho amato moltissimo la serie. Ci tengo semplicemente a ricordare che per quanto Game of Thrones sia al giorno d'oggi molto più conosciuto, soprattutto tra il pubblico generalista, non c'è niente nel suo immaginario che Berserk non avesse già inventato. Per quanto ovviamente si tratti di due opere con obiettivi e storie divergenti, è impossibile una volta che si conosce Berserk non notare le sue influenze. L'approccio viscerale alla violenza, al sesso, alle dinamiche narrative che tendono alla mancanza totale di retorica, all'imprevedibilità, ad una caratterizzazione dei personaggi mai macchiettistica e profondamente stratificata, una morale sempre ambigua se non addirittura annichilista, che risucchia i colori del fantasy classico in un buco nero di crudeltà e di ingiustizie. Sono tutte caratteristiche che il genere ha acquistato partendo da Miura. Ovviamente che Game of Thrones sia diventato più celebre al pubblico occidentale e che rappresenti per moltissimi spettatori l'archetipo del dark fantasy non è certo una sua colpa. Berserk dalla serie degli anni 90 alla trilogia cinematografica non ha avuto nessun riadattamento e la travagliata lavorazione del manga, terribilmente rallentata per la malattia terminale di Miura ha fatto sì che le nuove generazioni figlie della serialità televisiva non lo abbiano mai conosciuto, relegandolo alla nicchia dei fan accaniti che hanno continuato a seguirlo su carta fino alla morte di Miura ed il dibattito interno alla sua crew se concludere o no l'opera senza di lui. Certo, l'uovo del re dominatore, se paragonato al manga e valutato anche da un punto di vista cinematografico, non è niente di trascendentale. Presenta molte imperfezioni su cui si sarebbe potuto lavorare di più, adattando il manga taglia interamente delle storyline invalidissime per concentrarsi sul trio di protagonisti, Gatsu, Griffith e Chiasca, risultando così nei suoi 80 minuti tanto asciutto ed accattivante quanto eccessivamente breve. Si poteva concedersi non dico mezz'ora ma 15 minuti in più di approfondimento ben distribuiti non avrebbero guastato ed avrebbero reso il film più efficace di quanto già sia, soprattutto negli ultimi 10 dolorosissimi minuti dove la capacità di Miura di farti percepire il dramma umano arriva come una lama sottile fin dentro gli intestini, mettendo a dura prova la nostra capacità di empatia verso alcuni personaggi e portandoci a fare le prime riflessioni sulla natura dell'uomo e sul senso dell'amicizia con dialoghi destabilizzanti ed inaspettati che lo elevano da una sufficienza piena ad una abbondante. E lo so, può suonare contraddittorio che il mio anime preferito abbia un primo capitolo più che sufficiente. Ma questa trilogia, rispetto al peso e la bellezza dei singoli capitoli di altre, non vive della loro individualità. Esattamente come per la trilogia prequel di Star Wars, dove i primi due episodi servono solo a costruire le fondamenta per l'epilogo, che alza l'asticella molto oltre lo standard settato fino a quel momento. Vero che si arriva alla fine in un baleno e se ne vorrebbe ancora, ma come introduzione ai personaggi e gli elementi dell'opera fa assolutamente il suo lavoro. Per quanto Kubuka si sia pedissequamente attenuto alle tavole di Miura, limitandosi a creare una conseguenzialità dinamica nel collegarle registicamente. Per chi ha letto il manga fa male vedere personaggi secondari estremamente importanti venire così marginalizzati, ma Gatsu, Kiaska e Griffith, focus assoluto di questi film, ne escono grandiosamente. La conquista di Doldre invece si distingue nella trilogia come il capitolo più ricco d'azione. Fatte le presentazioni, la storia comincia ad entrare nel vivo ed anche seppure stavolta la durata è decisamente contenuta, si estende fino a 95 minuti, dove i nodi del potere di Midland vengono al pettine in una furiosa guerra che vedrà coinvolti i nostri protagonisti in prima persona. Ma nonostante il body count di questo film sia probabilmente il più alto dei tre, l'azione è ben distribuita nella durata e sapientemente intervallata da sezioni narrative di estrema importanza, dove l'ambiguità di alcuni rapporti inizia ad assumere una sua concretezza, dove si scopre la fragilità ma anche la forza vitale reciproca, la bellezza interiore che sopravvive ad un mondo esterno che la inquina e la sommerge in stereotipi e dogmi. Il ritmo è veramente molto equilibrato e la scala degli eventi aumenta esponenzialmente rispetto al primo capitolo, così come il fattore emotivo che nel marasma di violenza regala la possibilità sia di riprendere fiato che di contemplare attentamente questo mondo e queste anime spezzate. E stavolta del trio Chiasca è senza dubbio quella che ne esce più arricchita, senza mai però rubare la scena agli altri due che nel frattempo continuano il loro viaggio verso il destino. Tecnicamente parlando, l'utilizzo del cell shading per quanto migliorato ancora non convince appieno. Il suo largo utilizzo nelle scene di massa in certi momenti si fa notare un po' troppo ed in rarissime occasioni sfiora il ridicolo. La colonna sonora di Shiro Sagisu invece continua a potenziare le immagini e raggiungendo in questo capitolo dei picchi di poeticità incredibili. Il tema dei sogni, che nel finale del primo film viene presentato da Griffith, qui si espande ed estende a tutto il trio che a pochi passi rivela la natura del proprio. Se questo esiste. E se non esiste, questo è il momento per loro di rifletterci. Una caratteristica interessante è che oltre ad essere il capitolo con i tagli narrativi più pesanti rispetto al manga, Day 3 è anche quello dove il fantasy è ridotto al minimo, al di là di alcuni elementi fondamentali quasi impercettibile. Questo è un film sull'uomo e sulla donna, che devono trovare il coraggio di guardare dentro se stessi ed affrontare le conseguenze delle conclusioni a cui si è arrivati, senza voltarsi indietro. Più lungo, approfondito, serrato e sentito, e con un finale ancora più sconvolgente del precedente, che apre a possibilità narrative fino a quel momento neanche lontanamente contemplate. Per quanto comunque la conquista di Doldray offra un intrattenimento maggiore rispetto all'uovo del redominatore, devo ammettere che ho una piccola preferenza, un piccolo debole, verso il primo film, che comunque ha il fascino dell'inizio della storia. Ma questo è il film in cui ho capito inequivocabilmente di essermi innamorato di tutti i personaggi, di averli realmente a cuore a livello umano. Arrivato ai titoli di coda mi sentivo impaziente di vedere il terzo capitolo, che purtroppo abbiamo dovuto aspettare per molto più tempo rispetto al previsto, in quanto i problemi di censura, derivanti dal contenuto stavolta veramente estremo della pellicola che ne hanno ritardato l'uscita. Ma nonostante questo, una volta che l'ho visto, non ero pronto. Non ero preparato a subire uno shock psicologico paragonabile a quello che ho avuto da ragazzino con Akira. Berserk capitolo 3 l'avvento è un'esperienza straziante, una spirale di sofferenza e di orrore senza fondo che a parer mio fa apparire le nozze rosse di Game of Thrones come una cosa da niente. Il ritmo della narrazione qui trova un equilibrio praticamente perfetto. C'è una maggiore attenzione ed efficacia sia nell'adattamento del manga sia dal punto di vista tecnico. Il tono si fa sempre più spettrale e fatalista di una tristezza cosmica, proseguendo passo dopo passo verso un ultimo atto che tocca il culmine nell'esplosione di fantasy horror più terrificante che abbia mai visto in vita mia. Che Miura avesse abbracciato l'immaginario medioevale europeo dal punto di vista architettonico e mitologico era chiaro fin dall'inizio, ma con l'entrata in gioco di forze superiori che sconvolgono gli equilibri diventa mostruosamente ovvio quanto il suo orrore sia anch'esso di ispirazione fortemente occidentale. Una rielaborazione, eccitazione, diretta, proprio schietta, del Clive Barker di Hellraiser in chiave catastrofica e che regala scene tanto terrificanti quanto visivamente magnifiche. Si vede che Kubuka qui ha dato il 130% sia nel rendere al meglio le tavole di Miura che dedicando alla storia e allo sviluppo dei personaggi il tempo che meritano, arrivando ad una discreta durata di 117 minuti. Ma chi brilla più di chiunque altro è Shiro Sagisu, che forse riesce a fare ancora meglio del regista, sostenendo le sue immagini già bellissime con una composizione strepitosa, carica di disperazione e sentimento, svariando tra chitarre acustiche, cori gotici e mantra meditativi che rendono l'esperienza realmente indimenticabile. Un film tremendo, tremendo e realizzato benissimo, dove il dolore arriva allo spettatore senza compromessi, scatenando sensazioni che rimbalzano tra l'impotenza, la rabbia, il lutto ed il senso di vuoto. Il senso di tradimento, un tradimento talmente profondo da rimanere con te per giorni dopo la visione, e che purtroppo, almeno dal punto di vista audiovisivo, ci lascia completamente in sospeso. La trilogia cinematografica copre l'arco dei primi 13 sui 41 volumi disponibili del manga. Ed onestamente, visto il risultato, mi aspettavo ulteriori trilogie che portassero avanti il racconto. Ma si è deciso di fare una scelta diversa, quella di continuare la storia della trilogia tramite una serie televisiva. E la serie televisiva che prosegue la trilogia cinematografica è una merda. Un abbassamento degli standard settati dalla trilogia cinematografica talmente impressionante che non ci si crede. Se i tre film adottano una tecnica mista tra i disegni manuali e la tecnica 2D 3D in cel shading, qui per qualche ragione qualcuno ha pensato che sarebbe stata una buona idea realizzare l'intera serie in 2D 3D cel shading. Non c'è neanche, neanche un disegno manuale. Tutto computerizzato, tutto digitale ed, indovinate un po', fa schifo al cazzo, fa vomitare. Se anche nella trilogia in molte scene i personaggi risultavano delle bambole senza anima con uno sguardo totalmente morto, in confronto a questo risultato si tratta di oro puro. Si decide di cambiare addirittura lo stile grafico, si aggiungono dei dettagli stile fumetto per coprire forse la piattezza del digitale. Non lo so, è bruttissimo, è orribile. I movimenti sono scattosi, legnosi, non c'è una virgola di eleganza, non c'è una virgola della bellezza né della trilogia cinematografica né, tanto meno, del manga. Guardate la differenza. Addirittura, per qualche motivo, non so perché, nei primi episodi non seguono neanche registicamente le tavole di Miura. È tutto a cazzo, tutto a cazzo. Ed è veramente un peccato perché poteva essere l'occasione di valorizzare tutti gli archi narrativi dopo l'eclissi. Già ritenuti dai fan e dall'opinione pubblica in generale come inferiori, quando solo il pensiero di una trilogia cinematografica del livello della precedente sull'arco narrativo del Guerriero Nero mi fa bagnare le mutande. E come un idiota sono sempre qui che ci spero, sono sempre qui che lo aspetto. Ma dopo una serie televisiva che tratta proprio questo arco narrativo in questo modo, non lo so. Non so se sia più possibile. Portando però così lo spettatore che vuole continuare ad approfondire questa storia fino alla fine, a recuperare il manga, dove Berserk vive nella sua forma più alta ed integrale. E che stando a quello che i collaboratori di Miura hanno detto dopo la sua morte, continuerà per altri dieci anni fino ad arrivare al suo epilogo definitivo. Ma vi consiglio ulteriormente di immergervi in questa trilogia cinematografica non solo perché per me si tratta di film molto belli a cui sono veramente affezionato. Ma perché è uno dei modi possibili per approcciarsi ad una di quelle storie che io reputo fondamentali. La speranza finale è ovviamente che qualcuno inizi a leggere Berserk. Ma se non avete questa abitudine, se non rientra nei vostri interessi leggere manga, questa trilogia compensa parte di quella lacuna. E per chi deciderà da qui in avanti di addentrarsi su carta, si tratta comunque dell'incentivo migliore possibile. Per come sono fatto ne avrei parlato molto di più, sarei entrato nel dettaglio, ma non voglio rovinare niente a nessuno, in quanto forse il target di questo video sono proprio coloro che Berserk non lo conoscono. E spero di avervi incuriosito abbastanza. Grazie a tutti di essere arrivati fino qui, un bacione e alla prossima. Bye bye!